Manuel Belletti, a pochi giorni dall'esordio a Reggio Calabria, come stai? Bene dai, le sensazioni sono buone, finalmente si inizia a correre, speriamo di iniziare subito bene insomma. Conoscevi già parecchi dei tuoi compagni, come ti trovi nella nuova squadra, come ti trovi qui alla Colnago CSF in Oss? Sì, conoscevo già praticamente tutti, con molti, ci ho corso nelle categorie giovanili come Savini e Marangoni e mi trovo direi molto bene. Qualche obiettivo per la stagione? Ma l'obiettivo sarebbe fare il meglio possibile, conquistare magari la prima vittoria in Italia e trasformare i piazzamenti dell'anno scorso in vittoria. Un saluto a tutti i tifosi. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.